Barra a dritta verso il sito di Villa Mosca e quanto emerso ieri nel corso dell'incontro promosso dall'assessore regionale alla salute Nicoletta Verì e il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto per discutere del progetto per la realizzazione del nuovo ospedale della città di Teramo. La Verì ha chiesto un'accelerazione dell'iter procedurale da parte di tutti gli attori coinvolti nella costruzione del nosocomio, costruzione per la quale è già disponibile una quota di finanziamento statale pari a 122 milioni di euro a partire dalla localizzazione della struttura su cui è ancora aperto un approfondito confronto tra le varie proposte. I passaggi amministrativi portati avanti finora dal regione e dall'asale di Teramo ha ricordato la Verì sono stati eseguiti nel rispetto delle due delibere del comune di Teramo del 2017 giunta a Brucchi e dell'ottobre 2020 prima giunta ad Alberto che indicavano cinque aree tra le quali scegliere quella maggiormente idonea al nuovo ospedale. Tra queste c'erano sia Piano Daccio che lo studio di fattibilità preliminare della ASL individuò come la più adatta sia Villa Mosca ma da parte nostra ha puntualizzato l'assessore e qui c'è la novità non c'è alcuna preclusione all'ipotesi Villa Mosca non possiamo però più perdere tempo ha ricordato la Verìa il comune di Teramo deve versare in atti la sua posizione sulla localizzazione del nosocomio che ad oggi non è mai stata formalizzata il rischio è la perdita del finanziamento statale che sicuramente non potrebbe mai essere addebitata a inerzia o in adempienza di regione o ASL.